Oh 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 Non mi ha scorciato io giusto Vieni qua giù. Arrivo. Non era qua. Da cazzo era? Dov'era la scociatoia? Doveva attraversare il ponte? Boh. Sia qua, vieni. Oh. Quali dei due cancelli hai? Oh. Che c'è? Sto a posto. Minca, perché fa il rumore di... Beh, la schiena ce l'ha anche lui. Sì. Qua non ci siamo stati, giusto? Sì, no. Frammento grande di titanite. Quante cazzo sono quelle streghe? Pochino. Vieni qua. Che cazzo è questa roba? Minca, che schifo che fanno. Oh! Fa molto male. Fa male? Davvero? Tu li ho metto a vita. Tu li ho metto a vita con l'alito. Questa l'attacca? Non attaccarlo! Non attaccarlo, vero? Non mi sapeva buono. Carbone profanato. Ok. Allora, sei pazzo? Aia! Perchè ti fa così tanto ridere? Perchè ti fa ridere così tanto? Non so, perchè ti marchia? Helmo di Alva? No, è morta! Ho trovato l'armatura di Alva! Completa. Cazzo è? Eh, mi corri? Aspetta. Quindi è morto Alva? È morta? Chi è Alvar Soler? Quella che stava con... Con Horus. C'era lo scolatro qua. Boh. Un abbraccio. Eh, mi sa di... Mi sa di ricordarmi... Sì, mi ricordo. Anche quando avevo giocato io era morta. C'è un'altra abbraccio. Qua ci fa uno di questi qua? È in prigione. Ok. Chi c'è qua questa roba dei coglioni? Ah, non ci posso andare. Eh, please. Perché stai sprecando? E' tanto per cosa le uso? Invasori. Ahio? Se ci invadono, esco e rientro. Ahio. Ok. Ceneri di Xanthus. Che fighe cazzo. Inhuman reaction proprio. Ok. Qua non ci siamo già passati? Assolutamente no. Mi deve cadere qualcosa in testa? Cadio chi è una pentecoste. Grande anima del guerriero sfinito. Aspetta che guardo... cosa fa l'anello di... quella stronza. Reduce al consumo di PA degli incantesimi ma diminuisce i PV. Mi, lo vuoi? Amica, ci manca solo quello. Uno per aggiungermi uno per... Chi cazzo è quello lì? Quale? Esatto, questo! Amico. Il gargoyle 4.0? Anche 7.0. Petit cubu. Petit cubu. Petit cubu. Petit cubu. Morto. Oh, no. Dai Ale. E' questa è? L'hai grisato. Non soltanto. Boh... Non sapevo che è questa la prendesse con me. Catacombe di l'eclisse, tutti sanno che loro... Guarda. Beh. Cosa? Boh, che cos'è quella cosa? Proprio ho sgamato subito. Capitale profanata. Vabbè, in teoria ti avrebbe dovuto sorprendere, però ti è capitato male. Peccato. Perché l'ho visto? Posso arrivare lì saltando? Eh no, c'è una scala qua. Guarda, è le trappole di nuovo. A me l'importante è che non mi cada il pavimento sotto i piedi. Poi possono fare quello che vogliono. Ma che cazzo è l'oggetto che ho visto? Ah, c'è... Ah, stiracchia, ti scoggiato sui non è morto. Che cazzo è quella roba? Non lo so, ma volevo diventare una sedia. Come è l'u... Ti rompo. Codami. Aspetta. No, ho sbagliato. Scambia. Ci sono una bevuta. Stavo per buttare giù. Ti stavi o mi stavi? Ti stavo. Poi. Qual cazzo è l'oggetto che ho visto? C'era un oggetto, l'ho individuato. Eh, gara secret. Vabbè, scendiamo. Vabbè, scendiamo. C'era una nuova area. Ottima. Vabbiamo. What? Che ti comoro? Mica, vai! Ho sentito? Vai, ha detto! Stava per cadere giù. Sì. L'hai vista che stava per cadere giù? Sì. Facciola in pace. Dai, silenzio. Ah, è di fuoco? No, separato. Ho le ali? Sì. Mica voi. Vai, nenno. Cos'è questa scala? Ah, menomale. Ti stavo per dire, già è capitato indietro. Ma già c'è gli occhini un po' tagallo. Moneta arrugginita. Non era così importante. Voi. Andiamo? Prima qua. Vai dove ti spiccia il cuore. Il mio cuore mi aveva spinto a morire. From software? Titanite scintillante. Non scapi, bastard. Cosa sono di questi scheletri ruota che ci sono qua sotto? Sono croccanti. Dio. Stavo per ricadere. Moneta d'ora arrugginita. Ok. 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 Muschio porpure o fiorito? Eccolo qua. Il valeno. Mi pervade. Pietra prismatica. Ci sono oggetti là ma mi è veleno. Vabbè fregata. Intossicazione. Non è veleno. Veleno è un'intossicazione. Ma questa non è. Ti hanno invaso. Kiro. 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 Aiuto. Vieni qua. 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 Non c'è da scherzare con Kiro. Non puoi togliere le maledizioni come avevi fatto quella volta? Eh no. L'ho tolto. Sei una merda proprio. Non è comando. Quando ti serve avvissami che ce l'ho. Eh lo rimetto. Cristo non è che scende lui poi. Sempre io dello scendere. Sto morendo. Non voglio che arrivi lì e mi tagli la gola. Non ho niente per curarmi. Ah sì ce l'ho. No. Questo è l'avvelenamento. Aspetta che lo provo lo stesso. E infatti non è questo. No ti serve qua. Tieni. Congelamento. Tieni. Tieni. Sto senti camminando. Sto salendo le scale. Oh no. Cosa sta facendo? No. È giù. Io non ho più fraschette. E' su mi sa. Sì è qua sopra. Oh. Così mi aiuta il mio amico. Poi sono uguali. Ma non è nel PC anche quello? Cioè? È durissimo. Che cazzo è quello? Che cazzo droppa? Pergamena di Logan. Oh man. No. Lassalo. Che cazzo? Oh, lascialo! Bella! Eeeh! Dov'è? Chi? Che cazzo c'è? Ci godo! Mica solo forte con la mossa che fai! Ce l'aveva anche lui! Eh, l'ho vista! Questo è vivo, però! Probabilmente la sua era anche più forte! Coccololo! Questo è uno dei mostri che a me fa più schifo di tutta la serie! E' Manus? Unito al... A quello del 2? Si! Tutta la serie, addirittura! Ma c'è nessuno che fanno schifo, eh! E' Scrementi! Ma schifo! Un'ambano culo! Ale? Mimic! Mimic l'ho missato! Catalizzatore di Logan! Cosa a te serve? Non ho visto cosa ho preso! Io non ho più mani, ma... Io non ho più mani! Non hai più mani? Non ho più nulla, di nulla! Dove siamo qua? Guarda, ti torno! Torniamo indietro, così! Non vale la pena, però! Aspetta! Io sono molto importante, sono un mostro viandante! Facciamo ossesso e invadeteci in tanti! No! La mia potenza è di un viandante! No! Ira degli dei! Mi volevo buttare su quella piattaforma e sono caduto tra la piattaforma e i cosi sono caduto direttamente... Cosa fai, Ira degli dei? Crea un'onda d'urto più potente! Ercole! Sa come si fa... Ma per buttare giù! Ah? Ma per buttare giù! Ce l'avevo quella! Me l'ha data anche Sigmund! Ma per buttare giù! Chi è che ti stava sparando fuoco prima? Ah! Ah! Maschera dell'anticristo! La vuoi? Ce la... me la daranno! Tieni! Ne ho due, tanto! Non c'è scritto così! Davvero? Non la voglio neanche! Chiavi del carcere! Chiavi del carcere! Ale sei pronto? Aspetta! Aspetta un attimo! Guarda come te lo faccio incinocchiare! Ho molta vita! Io sono inutile! Gli ho tolto 44! Cioè manca a usarla! Probabilmente a me mi one shotta! Gli tiro le magie piccoline da lontano! Vabbè sono molte! Ma questi... questi cosi spawnano per sempre? I ratti? Mi pare di sì, mi sa che li devi ignorare! Ok, ho finito tutto! Eeeh... Si è bugato! Uhuh! Io ho paura! Non so quanto mi faccia! Sta indietro! Vabbè tanto gli abbiamo già toltato tutto! AIA! Si, anche lui mi ha tolto tutto! Più o meno! Ok! Cazzo di rati di merda! Framento grande di titanite! Fulmine di Pegasus! Eh, un pezzo di titanite mi serve! Per potenziare quest'arma! Chi a me! Per potenziare la fiamma della piromazia! Ah, c'è Sig Miming! Ah, oh! Ti chiedo scusa! Ero perso nei miei pensieri! Ma guarda, mi intrappola come un topo! Non c'è motivo di preoccuparsi! Ho avuto tempo per sorpresare le mie possibilità! È quasi giunto il buon momento! Mi serve solo un po' di tempo! Come faccio a salvarlo? Sig... Non resisti! Lo vede che c'hai il suo elmo, eh? E' quello da dove l'hai tolto! Scusa, poco a poco! Eh, che cazzo! Beh, te devi guadagnare! Mi ha quasi preso! L'hai visto, vero? Un pochino! Cosa sdroppa? Freccia del fulmine ammazzadraghi per 10! Sig, sto arrivando! Cos'è? Una magia? Un incantesimo? No, è... ...la freccia per la... ...l'arco enorme! Perché si chiama del fulmine? Perché sono elettrizzate! Elettrificate! Non è un compito per me! Dardo del fulmine! Dardo del fulmine! Dov'è... posso andare a prendere Sig? Non sfidarlo! Ma lo so, stai! Per il momento fai... Ehi! Che cazzo è? Perché c'ha la magnaia? Ehi! Ma aspettate che non si muove in due, eh? Ah, ma siamo qui! Sì! Beh, non è che può essere infinita la mappa! E come facciamo arrivare la Sig? Eh, vabbè! Fai quel che ti capita! Ma avresti una colettina magia? Cosa? Non con la voce, però! Ah, ne ho metto un cavaliere scoraggiato! Che tristezza! Un pochino! Ah, ma qui stiamo andando dove... Dove eravamo! Lo voglio salvare! Mi sento depresso! Comunque... O magari torniamo indietro dopo la zona se non ci riesci! Ma so, Kofa! Ma so, Kofa! Finalmente! Cosa? AIA! Mi ha cotto per benino! Ma ormai lo fai apposta? Bella prigione! Ci sono 80.000 anime lì, quindi facciamo attenzione, per favore! Qualcuno ti evoca! È sotto il car... La chiave del carcere! Per aprire questo! Moneta d'ora arrugginita! Wow! Sugoi nessun è proprio! Sì! Ale, eh... Piano! Ah, non li faccio un cazzo! Vabbè! Ah, è pure... È pure da ammirare questa cosa! Saldatore! Saldatore! Lo vuoi usare? Non adesso! Ci sono troppe anime in ballo, però sì! Adesso lo equipaggio, poi la finiamo qua! C'è! Ti, bro, 천ca Kecce! Ti sposti? Curami Che cazzo non me lo puoi chiedere invece di bloccarmi? Menga guardaci Si verrà che siamo secchi Eccoti qui Pensavo che foste tutti dimenticati di me Quanta gentilezza Mi fa piacere sapere che una piccola erettica come me attiri ancora l'attenzione Non fai parte di quella feccia? Dipende di quale feccia che stia parlando Ti chiedo perdono Ti ho scambiato per uno di quei parassetti Cosa ti porta qui? Questa terra è ricca di mostri e io non faccio eccezione Offri aiuto Sono colpevole Una disgustosa figlia dell'abisso Si ma mi servi per le piromanzie Di cui la Salva comunque E' Carla Non sei un uomo qualunque Eccellente Ero stanca di questa prigione Il mio nome è Carla E accetto la tua proposta Ok Questa è la mia salvezza Alla prossima Alla prossima Alla prossima